La coordinatrice regionale donne PSI Sicilia, Daniela Virgilio, è stata nominata al referente nazionale PES activist donne. Virgilio è attualmente alla guida delle donne socialiste siciliane ed è sua l'iniziativa di aprire la prima sezione PSI donne in Italia, inaugurata ad Erice. Il 24 giugno scorso è intitolata Clara Zetkin, esponente politica tedesca che nei primi del Novecento si batte per i diritti delle donne. Guardiamo con molta attenzione l'attività politica dei PES activist e in modo particolare a quella delle donne PSI, afferma Daniela Virgilio, e all'operato della sua presidente Zita Gourmay, che inviterò presto a visitare la nostra sede siciliana. Il mio obiettivo prosegue è quello di coinvolgere le compagnie socialiste e riformiste sul territorio nazionale, spronarli all'impegno per la parità di genere in tutti i settori della società e per politiche europee più giuste per il nostro paese. Non mancherà l'impegno costante di battersi per una politica più vicina alle donne, ha concluso. E siamo a Castellamare del Golfo. Presentata la relazione annuale del sindaco Coppola fa il punto della situazione nel primo anno di mandato. Buoni risultati nel sociale, turismo, istruzione e lavori pubblici. Dopo un anno di lavoro mi sento di sottolineare che il mio progetto politico di una città da rilanciare è stato avviato. Ho subito guardato alle fasce deboli della cittadinanza. Abbiamo concretizzato risultati, forse anche inaspettati, nel sociale, nel turismo, nell'istruzione, nello sport e nei lavori pubblici. Ho cercato di rilanciare con ogni mezzo l'immagine della nostra città, che ha bellezze paesaggistiche uniche, e quindi promuovere il turismo per dare respiro alle attività economiche e produttive. Questo quanto affermato dal primo cittadino di Castellamare del Golfo nella relazione annuale presentata al Consiglio Comunale, nella quale ha esposto il lavoro svolto dall'amministrazione nel primo anno di mandato, seguita da dettagliate relazioni di assessori, dirigenti e collaboratori. Non voglio cogliere l'occasione per bacchettare qualcuno, ha affermato Coppola, ma voglio invitare tutti ad un cambio di passo e di atteggiamento per interpretare al meglio i bisogni di una città che si trova ad un bivio di valenza storica. Possiamo diventare un importante centro turistico o restare un bel paese della provincia di Trapani. Per il sindaco tutti dovrebbero rivedere le proprie posizioni, aprendosi a realizzare un accordo di programma tra diverse sensibilità e culture politiche per rendere più partecipate le scelte, ma anche più significative e puntuali le soluzioni, dalla gestione dell'ambiente del territorio a quella del porto in tutte le sue evoluzioni, dallo sviluppo turistico alle risorse idriche. Proviamo a realizzare questo nuovo modello di impegno politico, l'invito di Coppola, senza ragionare su chi ne trae vantaggio, ma pensando che ciò ha valore sicuramente per la città che non può permettersi attese, ma ha solamente risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Tra le vicende che giocano un ruolo di primo piano per il futuro della città, il porto, il depuratore, i servizi idrici, la nettezza urbana proprio sul porto, su cui si è da subito concentrata la sua attenzione, il sindaco ha evidenziato di essersi trovato di fronte ad un quadriennio di stallo con diversi danni anche materiali, da cui è dovuto ripartire il RUP, l'ingegnere Salvatore Pirrone, che operando su una pluralità di tavoli tecnici, sta ottenendo il risultato sperato per il completamento del primo lotto, contrattualizzando contemporaneamente il secondo lotto all'impresa SIX, che certamente inizierà il cantiere. La realizzazione dell'opera ha infine ribadito il sindaco di Castellammare del Golfo e solo il primo passo per il miglioramento delle infrastrutture portuali, che avranno la necessità di un'efficace progettazione, e modelli innovativi di gestione di servizi correlati, per i quali stiamo già avviando dei tavoli tecnici con esperti di rilievo internazionale. Il ruolo del privato, come stakeholder privilegiato nell'attivazione e gestione dei servizi portuali, sarà determinante per la creazione di modelli di governance pubblico-privato che possano rendere sostenibili gli investimenti per la nostra collettività. Oggi e domani a Mazzara del Vallo, gli utenti di Viale Alassio, traversa di via Bessariona-Tonarella, non usufruiranno del servizio idrico a causa dei lavori per il ripristino della condotta. La sospensione del servizio si è resa necessaria per consentire ai tecnici di sostituire circa 100 metri di condotta gravemente danneggiata e dalla quale fuoriusciva acqua potabile. Un intervento indifferibile ha dichiarato il vice sindaco Silvano Bonanno che si è reso necessario, visto il perdurare della fuoriuscita. Il disagio per i residenti sarà di breve durata e dentro domani il servizio verrà regolarmente ripristinato. E problemi idrici anche a Partinico. Riguardo all'acqua non potabile, esplode la psicosi dalle fontane tutto regolare, ma spunta un divieto abusivo. Entro le prossime 24 ore potrebbe risolversi il problema i due pozzi da cui attingono le abitazioni. E' scattata una vera e propria psicosi a Partinico dopo la notizia della non potabilità dell'acqua proveniente dai serbatoi dell'acquedotto comunale. A fare da contorno anche notizie false e un tantam di voci incontrollate circa la non potabilità anche delle fontane pubbliche. Ieri e oggi dagli uffici del comune di Partinico è stato un via vai di gente impaurita e in alcuni casi anche inferocita. E qualche male informato si è persino azzardato ad affiggere un manifesto abusivo sulla fontana barocca di Piazza Duomo con su scritto acqua momentaneamente non potabile. Un vero e proprio procurato allarme perché l'acqua delle fontane è potabile contrariamente a quella che invece sgorga dai rubinetti delle abitazioni. L'acqua delle fontane, sottolinea il tecnico dell'ufficio manutenzione del comune di Partinico Ginoviola, proviene dai pozzi lago in un transito attraverso i serbatoi comunali dove si è invece verificata l'anomalia che ha provocato la non potabilità dell'acqua nei giorni scorsi. L'acqua arriva direttamente dal pozzo delle fontane e quindi è potabile. La gente però da qualche giorno non si azzarda ad avvicinarsi alle due fontane del centro abitato. quella per l'appunto di Piazza Duomo e l'altra di Via Bari. Intanto il problema potrebbe essere risolto nelle prossime 24-48 ore al massimo. Tecnici dell'ASP di Palermo effettueranno oggi campionamenti completi sull'acqua proveniente dai pozzi lago e ramo, sottolinea l'assessore lavori pubblici Giovanni Pantaleo. Dovrebbe essere confermato il rientro all'interno dei parametri e quindi la potabilità dell'acqua. Infatti il problema della non conformità dell'acqua si è verificato per una questione separatamente tecnica a causa dei guasti in serie prima di Pozzolago e subito dopo di Pozzoramo che hanno comportato dal 30 dicembre al 4 gennaio scorsi la mancata erogazione di circa 30 dei 60 litri di acqua al secondo. Questo ammanco nelle vasche di accumulo non ha fatto scattare l'automatica clorazione delle acque e questo ha comportato lo sforamento dei parametri di potabilità. Ora che i guasti sono stati riparati e si è tornati all'erogazione regime, anche la clorazione è stata ripristinata. In questo scenario si è consumata anche una polemica con i consiglieri Gianluca Ricupati, Mauro Lobaido, Michele Chimente e Totogovernanti che hanno presentato un'interrogazione. La società acqua potabile aveva sognalato già lo scorso 30 dicembre la presenza di batteri nell'acqua, si legge, e non si capisce perché il comune di Partinico ne ha dato comunicazione solo lo scorso 6 gennaio. Non appena abbiamo avuto conoscenza della nota, replica Pantaleo, è stata istantaneamente messa l'ordinanza a titolo precauzionale. Nel frattempo si è consumato l'ennesimo atto vandalico alle fontanelle di Viabari, dove sono stati divelti due dei quattro rubinetti da cui esce copiosamente tantissima acqua a causa di questo danneggiamento. Sarà presentato domani alle 9 presso la Cittadella della Salute di Trapani il progetto educazione alla salute, prevenzione e diagnosi precoce delle patologie odontoiatriche nella popolazione infantile in ambito scolastico predisposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Il progetto prevede due azioni distinte, una educativa formativa ed una clinico epidemiologica. Verrà inoltre presentata all'unità di prevenzione mobile cranio-facciale, mezzo appena acquisito al patrimonio dell'Azp di Trapani, con cui verrà svolto parte del progetto, che prevede una campagna triennale di informazione, formazione e prevenzione delle patologie odontoiatriche in favore dei bambini e delle terze classi della scuola primaria della provincia di Trapani e all'alto patrocinio del Ministero e dell'Assessorato regionale della Salute del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e dell'UOC di Odontoiatria Pediatrica dell'Università di Roma Sapienza. Non si placa la polemica sugli addobbi natalizi del centro storico di Trapani. Il consigliere comunale Francesco Salone denuncia il sindaco Damiano alla procura. L'invito della soprintendenza di Trapani a rimuoverli era stato ignorato. Terminate le festività, non accenna invece a placarsi la polemica sugli allestimenti natalizi predisposti dal comune di Trapani. Anzi, tutto finisce in procura. Gli addobbi avevano suscitato un certo clamore, forse soprattutto l'enorme statua raffigurante un faraone, davvero difficile che potesse passare inosservata ma non proprio in tema col Natale. Si trattava di vecchie scenografie dell'UIO musicale trapanese recuperate e destinate a fungere da arredo urbano natalizio ma in tanti hanno storto il naso. Gli originali decori non erano piaciuti nemmeno al consigliere comunale di Forza Italia Francesco Salone, il quale segnalò per iscritto che al di là del giudizio estetico mancavano dei pareri della soprintendenza ai beni culturali oltre alle autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico chiedendone quindi la rimozione immediata diffidando l'amministrazione. Gli allestimenti collocati in occasione delle festività natalizie nei luoghi tra i più significativi del centro storico di Trapani risultano avulsi dal pregevole contesto storico-culturale nonché dissonanti per tematismi prescelti, matericità, dimensioni e cromie. Si legge nella nota del 19 dicembre scorso a firma della soprintendente di Trapani l'architetto Paola Misuraca inviata all'amministrazione comunale con l'invito alla immediata rimozione dei medesimi ai fini del ripristino del decoro urbano con l'auspicio infine che per il futuro simili iniziative possano essere valutate opportunamente approfonditamente con la stessa soprintendenza. Ogni altro commento da parte mia, conclude Salone, mi sembra superfluo anche se devo costatare e tornare a denunciare che l'amministrazione comunale non solo ha disatteso l'invito alla rimozione immediata dei manufatti da parte della soprintendenza tant'è che sono rimasti lì dove sono stati collocati per tutto il periodo natalizio ma ancor peggio ha consentito la realizzazione di una specie di suc con teloni e pareti fittizie allestito presso la piazza del mercato del pesce anche in questo caso, dice Salone, in spregio a qualsiasi autorizzazione e a qualsiasi norma in assoluta dissonanza con la pregevolezza e la storicità dei luoghi ora tutta la documentazione comprensiva delle foto fornite dal consigliere è finita al vaglio della procura della Repubblica di Trapani Lunedì prossimo alle 11.30 la sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati di Trapani incontrerà la stampa nell'aula Jeep Group del Tribunale di Trapani per presentare la giornata per la giustizia che avrà luogo il 17 gennaio nell'ambito dello stato di mobilitazione dei magistrati proclamato dall'Assemblea Generale dell'ANM sabato 17 i tribunali saranno aperti al pubblico a partire dalle 10 nel Palazzo di Giustizia di Trapani sarà realizzato un momento pubblico di riflessione confronto per diffondere una corretta informazione sull'attività giudiziaria sensibilizzare sulle condizioni di lavoro dei magistrati e approfondire gli effetti distorsivi prodotti dalla riforma in materia di responsabilità civile dei magistrati e l'amministrazione comunale premia la giovane ballerina alcamese Sara Renda le sarà consegnata sabato pomeriggio alle 18.30 presso il centro congressi Marconi una targa di encomio per la sua carriera artistica la 22enne Sara Renda si è infatti distinta per la sua bravura professionale della prima ballerina al Gran Teatro di Bordeaux in Francia tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia e si conclude così questa edizione del nostro giornale grazie per averci seguiti, arrivederci grazie per aver guardato il nostro canale